PEGI 18 Bello gettone battaglia Riscattali così da poter ottenere ricompense Ogni settore di combattimento ne contiene 5 Completa il settore sbloccando tutte le ricompense Incluso il bersaglio prioritario Completando i settori se ne apriranno di nuovi E potrai scegliere il tuo percorso nella mappa In base alle ricompense che vuoi Completati tutti i settori guadagnerai ricompense bonus Per avere una vittoria totale La mappa include 20 elementi gratuiti Tra cui nuove armi funzionali e punti Call of Duty Effettua l'upgrade del Battle Pass per accedere a oltre 100 ricompense Tra cui nuovi operatori, progetti arma e 1400 punti Call of Duty E questo è solo l'inizio Ogni stagione porterà nuove mappe, ricompense e sorprese Con il nuovo Battle Pass di Call of Duty Ora la vittoria è nelle tue mani